ciao a tutti benvenuti oggi qui con me c'è stella bosso presidente di trading library perché cara stella quando arriva maggio che cosa succede maggio farà anche se non fa rima ma oramai maggio è sinonimo quasi sinonimo di di lo dì tf sei una grandissima rappresentante di questa manifestazione si itf rimini 18 19 maggio giovedì e venerdì pala congressi se vuoi dare giusto qualche informazione generica quindi su questo evento oramai che si va da tantissimi anni imperdibile certo allora itf le date le appena dette tu è in via della fiera 52 rimini è il pala congressi quindi nulla fiera di rimini il pala congressi via della fiera 52 è una manifestazione bellissima ormai riconosciuta da tutti perché da anni che facciamo questa manifestazione a rimini e questa volta sarà ancora bella perché sta arrivando il trading talent show esatto contentissima di già già è in video c'è già in video l'immagine preparata la bravissima erica che ci dice ci ricorda che il 19 maggio segnateve lo scrivete lo 19 maggio 10 e 45 teatro che porta il nome proprio dell'evento it forum quindi stella devono cercare proprio teatro it forum per non cercare di altri forum devono cercare lo stand trading library perché sarà proprio vicino al nostro stand devono cercare la stella boso che sarà in giro per i tuoi e che li porterà al teatro per vedere il live del trading talent show sì allora spieghiamo un po per chi o chi pensa mai non conoscono il 3 aprile è partito il trading talent show ovvero ogni giorno ne vado alla scoperta insieme a tre di labbra insieme a iva insieme al broker st o andiamo alla scoperta di talenti in giro per l'italia traders che poco conosciuti e adesso invece spensa stella visualizza il numero di visualizzazioni pazzesco sebbene siano dei video che durano anche un'ora però viaggiamo almeno 5 700 per superare anche mille visualizzazioni stella sicuramente avrai visto anche tu siamo passati da due ragazzi 22 anni mattia e gianmarco che saluto fino alla settimana scorsa mauro 60 anni quindi stiamo proprio vedendo tutti quelle che sono tutte le varie facce in tutti i sensi dei traders nella categoria demo siamo arrivati leggo l'ultimo aggiornamento 137 iscritti e 20 reale anche in quella reale dove sono quindi soldi veri si sta crescendo sempre il numero potete sempre partecipare venite insomma ovviamente le adesioni è sempre aperto non è un contest di un mese due tre mesi ma carastella noi li vogliamo vedere chi sopravviverà tra virgolette a mesi di operatività col trading talent show tu hai già hai visto sicuramente visto qualche spunto non so che cosa la tua impressione in questo primo mese del trading talent show allora io li ho visti tutti naturalmente e per me la cosa più bella è che mi fanno compagnia durante la giornata ti assicuro li sento anche due o tre volte perché voglio capire bene come queste persone questi partecipanti al trading talent show si comportano e devo dire che finora quello che ho notato è che c'è un denominatore comune che è la serietà di queste persone allora io credo che il trader vero sia questo cioè sia la persona seria che si vuole confrontare con i mercati e non il giocatore di borsa e questa è una cosa che apprezzo moltissimo del trading talent show e dei partecipanti i numeri poi di cui parlavi prima scusa milenato sono dei grandissimi numeri lasciamelo dire sono veramente dei grandissimi numeri e secondo me in questo momento io questi numeri su un'iniziativa così nuova e fresca non li ho visti non li ho trasparente è trasparente perché il bello è che è stato legato un sito a questa iniziativa che è fx blue a cui possono accedere anche utenti non registrati fx blue dove questi traders proprio la novità è questa che ci spiegano illustrano le loro strategie con la serietà e semplicità anche sono vero molto facili da apprendere ma poi li vediamo proprio all'opera giorno per giorno quindi l'operazione o spiegano delle operazioni che già hanno fatto quelle che hanno in corso quelle che faranno la cosa bella è che noi possiamo seguire proprio sul sito fx blue tutto operazioni aperte in corso e anche gli ordini pendenti quelle che operazioni hanno stanno pensando di aprire e il 19 maggio ci sarò io ci sarà stella ci sarà marco pianezza di st o ci sarà ivan che è il mio compagno di viaggio in questo fantastico tts ci saranno loro 19 maggio 45 saranno proprio i ragazzi del trading talent show che anche lì dal vivo immagino l'emozione stella io la prima volta che sono stato relatore era 2013 al reality forum è emozionatissimo e per loro sicuramente per molti forse per tutti sarà la prima volta col microfono davanti ad una pletea che presumo penso io a meno stella mi stanno scrivendo da tutta italia stanno preparando valigie per venire vi invito è un bel weekend prendetevi un giorno con la vostra moglie fidanzate amici venite insomma così passate anche weekend a rimini che è sempre un piacere e quindi sarà per la prima volta questi ragazzi insomma parleranno davanti a una platea importante quindi ma tranquilli ci saremo io e stella che staremo lì a farli anche perché sono più emozionata di loro loro veramente loro che arrivano ai tf è una grandissima carica di energia ed è solo una prima tappa una prima meta un primo traguardo questo perché non avete idea di quante cose alcune forse probabilmente ne parleremo anche il 19 maggio lì dal vivo a rimini e quindi insomma davvero bellissimo bellissimo non vedo l'ora quindi niente stella appuntamento è 19 maggio lo vedete avete visto c'è proprio ferma l'immagine venerdì 19 maggio 10 45 teatro it forum se proprio non riusci ad arrivarci cercate lo stand 3 di labi che ci sarà stella lì che vi prenderà mi accompagnerà per mano e quindi venite presto anche perché esatto 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 venite presto perché evitate la fila della registrazione tutto il resto all'ingresso e quindi in modo tale che potete avere il vostro bel posto in prima fila ok stella allora ci vediamo a rimini 19 maggio anche con te io vado a preparare la valigia va bene grazie e arrivederci grazie stella grazie a te ciao a tutti buona giornata arrivederci arrivederci